Un applauso gentilmente, grazie. Udite, udite, o voi che in questa piazza oggi vi state con questa meravigliosa banda come vi trovate. Dal tempo qua al presente lo faremo per voi in modo divertente. Un applauso lo abbiamo sentito in modo adeguato. Lo possiamo ripetere, per favore, che prima è sbagliato? Ora così è giusto da fare. Ma questo gruppo... E per quello, per i sbandinatori, giustamente, qua presenti. Signori, oggi la sfilata del gruppo storico di Montemurlo con i suoi musicisti e sbandinatori, qua che rappresenterà e eseguirà degli spettacoli di bandiere. Incomincerei, se fossero pronti, ma voglio prima ricordare che questi ragazzi sono usciti vittoriosi al primo palio di Santo Stefano in pane a rifredi. Un applauso meraviglioso. Facciamolo grande, grande, questo applauso. E allora, interpretare qualcosa che da inizio, questa cosa che guarderei con grande sfizio, entri la coppia ad esibirsi, se non sbaglio preferisco non farlo, ed è per quello che io parlo. Quale del confuso andare? La lasciamo loro suonare, prego.